Allora l'ultimo brano in cui la solista è Giorgia Cuttitta che invito qui insieme a tutti i ragazzi del Gonzaga Campus nasce dalla tradizione spirituale, cioè il canto dei neri d'America che lavoravano nei campi di cotone e cantavano. Nonostante i sopprusi, nonostante la morte, nonostante il dolore, loro cantavano. E allora con questo messaggio, con questo Happy Day, che felice giorno, noi vi auguriamo Buon Natale, un inizio di anno nuovo da parte di tutta la comunità del Gonzaga Campus. Grazie a tutti. 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 Buon Natale a tutti.